Loro sono di... Io avevo quasi 30 anni. Ho quasi 30 anni. Che cosa ti ha fatto? 32. Sono i castelli quando io ero bambino i primi ricordi che ho sono quelli là. Sono i castelli. Il catalogo era scritto in olandese. Ti ricordi? In olandese. C'era il bellissimo castello che poi l'ho mai beccato l'ho comunicato, l'ho un rosicato a un momento che avevo già fortunato io da qui. L'ho negato al 68 o nel 68 qualche posto. C'era il castello dell'alegro dell'epoca. Loro io da bambino un gioco prossimo mi ha regalato l'alto spugiale. Il castello giallo appena tardi. E che è stato oltre un esempio di Gialdi nello sfuso vecchio che aveva fatto qualche studio ma ormai è andato. Quei cavalli che ancora si costruivano. I cavalli che costruivano gli Gialdi una volta con la città con la vabbè si tutti decorati diversi proprio come erano stampati diversi. Questo invece è di Gildom. Questo è il castello. L'ho fatto io a mio amico. Ma quello di quel colore è ramato così? Questi castello non ricordo se sono castello se li fa qualche americano sono sono quelli originali non me lo ricordo. Così i ramati sono strani. Infatti questo è il castello. Non ho mai visto comunque i miei fatti così. Questi sono proprio questa è la cromatura della Lego questa è la cromatura di un